Ora, siamo nel capitolo 6, il filmato era spettacolare, veramente. Corello. Lo dovremmo... ...collare. Esatto. Usando i due trigger, cioè i due grilletti inferiori, li spingete insieme e andate a sbloccare quel trofeo. Ora... ...vi andiamo avanti. E andiamo a sbloccare un altro trofeo. Lo sblocchiamo ora, ci toccherà rifare il capitolo 6. Mi ricordavo quattro capitoli, invece sono sei. Oh, mi è venuto in mente quattro, non lo so. Oh, mi è venuto in mente quattro, non lo so. Ora, arriviamo nei pressi di una cisterna, sono queste balenottere, eccole qui. E utilizziamo il tasto in su, direzionale. E sblocchiamo questo trofeo, memoria risvegliata. Poi possiamo continuare ad andare avanti. ... ... ... ... ... ... Mettiamo il nostro patatino al sicuro. Ok, qui dobbiamo illuminare questi trati. Che problema c'è? Questi qui, quindi fate più o meno il percorso che vi mostro io. Rilassiamoci un attimo. Ok. In questo modo. Faltiamo di qua. E poi da qui dovremo arrivare. E se avete visto, effettivamente noi stiamo illuminando tutti questi marchi ingegni all'interno dei disegni delle balenotter e delle cisterne. Ok, arriviamo qui. Andiamo da questo lato, è enorme. Il posto è enorme. Ci attacchiamo qui. No. Scusami, eh. Eh. Ho capito. Da qua andiamo anche dall'altro lato, eh. Ok, questi li abbiamo illuminati. Ora ci spostiamo di qua. Dai. Maledetto. Soppa qua. Niente. Vai più su. Più su, più su, più su. Siamo prima. Eccoci qui. Ok. Prowse. Prowse. Dobbiamo tornare di qua. Da qui dobbiamo saltare qua su. Vai. Qui è la stamina che ci mette a dura prova Scusate un attimo Non so se ce la facciamo Qui i salti li raggiungete per forza Nel caso ancora non aveste Infatti non ce la facciamo Porcaccia la miseriaccia Bene Torniamo su Sì però Non è che devi essere Così in ritardo Guarda là quanta stamina che ti prende Pazzi comunque Dei pazzi Ora dovremmo sprecare meno energie Dovremmo arrivare un pochino meglio Un pelo Ma puoi andare dove dico io Metti le braccia dove c'è lui Allora Appiccichiamo Che non ci sa mai Ma la sentivo proprio Cioè era Praticamente scontata Questa Questa cosa Dai Vai che ci siamo Vai che ci siamo No di qua devi andare Bravo Perfetto Ci tiriamo su questo E dopo andiamo giù In questo modo Così Andiamo a sbloccare Porca miseria ogni volta Vai giù No Perfetto Ottimo E qui Dovremmo essere a posto Sì possiamo entrare Non Mettiamo qui E ci buttiamo là E possiamo proseguire Da quest'altro lato Ok Cosa stai facendo Cosa fa Oh Ti sganci Mamma mia Corello Ogni tanto mi si incarta Vai Ci buttiamo da questo lato Vai così Poi mettete i chiodini E se Non volete rischiare Mi raccomando Cosa che dovrei fare Anch'io in realtà Magari La facciamo Qui per esempio Andiamo ad andare di qua Un vuoto Qui un chiodino Ce lo metto Magari Per sicurezza Sì perché Quelli L'illuminiamo Arrivando Di là Così Prendiamo un attimo Ok Attacchiamo E ci agganciamo qui Così Da poter Scendere un po' Ok Luminare questo E quest'altro Così possiamo arrivare Più su Eccoci qui Perfetto Ora Andiamo di qua E ci godiamo Il filmato Finale Del gioco Meraviglioso Mi raccomando Fateci sapere Nei commenti Voi Cosa ne pensate A noi È piaciuto Tantissimo Luminare questo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.